Tu sei milanese, hai dovuto abbandonare una vita di un certo genere, ora stai conducendo una nuova vita a Barzio. Esatto, una nuova vita, veramente una nuova vita. Io sono entrato in punta di piedi in questo paese, dove veramente ho cercato di portare massimo rispetto e penso di averlo portato. I barziesi me l'hanno concesso di essere qua e poi alla fine di fare anche manifestazioni Canore, dove ho avuto un ottimo successo, soprattutto grazie a tutti i commercianti che mi hanno dato una mano su queste manifestazioni. Io sono qua per ringraziare. Io voglio dare ancora vita a questo paese perché merita, questo è un paese che veramente merita di tutto. Voglio fare un ringraziamento a chi mi ha dato la possibilità di poter lavorare in questa struttura, in questo palazzetto. Ringrazio le persone che mi hanno dato questa possibilità e poi ringrazio anche il dottor Massimo Fossati perché mi ha preso a lavorare sugli impianti di bobbio. Veramente vi ringrazio di cuore. Tutto questo che io sto facendo e poi con verità e con sincerità è quello che io voglio continuare a collaborare e contribuire per un futuro dei miei bambini, che loro abbiano una cosa giusta, che un domani non possono dire che sono stato un padre menefreghista, questo mai.